27 giugno 2012 si carico ad incendio a me continua ad arrivare sempre qualcosa nell'occhio ma di continuo venga papi senza paura guarda al sotto cosa c'è da dove arriviamo ah si che mister buricchi non si gira perchè sta cavando un acchio off a qua legati vieni qua che te leggo io vieni da vieni qua andrei vieni qua e vieni qua vieni qua mi sono di nuovo stanco sono di nuovo stanco stai filmando? si cosa stai filmando? i paraggi questo ultimo sforzo ma qua non ti attaccare neanche solo questo passaggio qua si però situazione di di atlant di atlant che ci sia non ti attaccare ma non ti attaccare ma che C'è Dov'è che noi arrivavamo? Lassù Tagga banda Guardami Ok Dai andiamo ad Aosta Tried to set the night on fire Yeah